la premessa è necessaria l'ora libri di oggi apre con un'intervista a lirio abbate che si occupa prevalentemente della figura di Matteo Messina Denaro a cui lui ha dedicato il libro Usicu di recente rieditato con un aggiornamento che ha preceduto di appena pochi giorni la cattura del boss di Castelvetrano di conseguenza questa intervista è stata realizzata giovedì di conseguenza non contiene non può contenere la notizia dell'arresto della sorella di Matteo Messina Denaro a Rosalia avvenuta avvenuta venerdì mattina che altrimenti avremmo commentato che cosa ci dice l'arresto di Rosalia Messina Denaro non molto di nuovo se non la conferma del ruolo che in alcuni casi le sorelle o le mogli di camorristi o mafiosi assumono nella catena di comando di Cosa Nostra o di altre organizzazioni mafiose poi ci dice ci da una conferma e una riaffermazione la conferma è che i mafiosi conservano i pizzini che poi alla fine li travolgono e li tradiscono la riaffermazione è quella di questa vaga idea di indipendentismo che la mafia più volte ha agitato per giustificare le sue azioni criminali cioè volte in sostanza a ottenere una Sicilia indipendente e libera ci tentò Ciancimino ci tentò Totolina ci tentò Leoruca Bagarella anche esponendosi perché fondò Sicilia libera e sulla stessa scia si è mosso Matteo Messina Denaro lanciando questi proclami indipendentisti come quello trovato appunto in uno dei pizzini tanto vi dovevamo buona visione amici dell'ora edizione straordinaria buongiorno e buona domenica l'ora libri di oggi si apre con un ospite carissimo di tutto riguardo e a cui noi vogliamo molto bene e Lirio Abbato come vedete buongiorno Lirio buongiorno buongiorno Lirio Abbate è appena riuscito diciamo così con Usiccu il suo libro del 2020 dedicato a Matteo Messina Denaro al capo dei capi all'analisi delle delle come dire della genesi questo mafioso all'intreccio tra politica e mafia a tutto il rosario di morte che ha accompagnato decenni di vita siciliana ma anche di vita nazionale e di crimini tremendi come le grandi stragi che conosciamo l'uccisione dei ragazzini e così via però l'ultimo però il libro è stato ristampato da Rizzoli nel 2022 e ancora a gennaio del 2023 come dire appena in tempo perché Matteo Messina Denaro fosse finalmente catturato e non fosse più il grande fantasma della mafia in più negli ultimi giorni è venuta fuori la notizia che Usiccu diventerà anche un film e anche un'importante produzione leggo da un'agenzia che sarà affidata a un regista di primo piano e allora è forte la tentazione di chiederti Lirio che cosa c'è intorno a questo progetto film peraltro per te non nuovo allora ciao 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 Sergio grazie per questo invito e per questa possibilità che mi dai e la la notizia è stata stata data dalla casa di produzione si chiama Bambù produttore Belardi lavorato per tanti anni con Lotus produttore che ha prodotto i film di di Genovese ed altri successi sia al cinema sia per il ma anche per la tv hanno subito insistito a prendere i diritti del del libro e per farne una produzione internazionale sul 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 regista sinceramente non so nemmeno io chi chi possa chi possa essere quindi e quindi diciamo anche perché comunque in ogni modo sono vincolato dal contratto che anche se lo sapessi diciamo non lo non lo posso non lo posso rivelare e quindi loro si sono messi già al lavoro e vogliono fare questa questa grande produzione la cosa che mi interessa è che ho sottolineato al produttore e poi diciamo a chi sta per scrivendo la sceneggiatura e che il protagonista che Matteo Messina Denaro spero proprio non diventi un protagonista fra virgolette positivo diciamo in qualche modo la mia la mia idea è quello appunto di farlo apparire per come si potrà o come il cinema potrà fare per quello che nella realtà un criminale assassino uno che per trent'anni si è stato latitante è stato purtroppo diciamo a diciamo bravo a essere un fantasma fino al 16 gennaio scorso però di fatto è autore di di tantissimi emicidi e quindi spero proprio che si possa arrivare a trasmettere al pubblico questo questo personaggio fra virgolette negativo certo ora la cosa più interessante di questo libro che da quello che capisco questa prefazione avvertenza il mosaico è stata scritta finita non so qualche giorno prima della cattura ma è come se la cattura già ci fosse stata perché perché da tanti anni che tu studi il personaggio Matteo Messina Denaro da quando addirittura pubblicando l'unico il primo e unico verbale di polizia da lui firmato e quindi ne hai tratto tutta una serie di considerazioni sulla sua personalità per cui oggi tutti lo sanno ma prima non tutti potevano sapere con questa certezza o quantomeno molta approssimazione del giovane boss giovani di lusso del film minaro di quello che si fa gli affari suoi e di quello che ha avallato la cultura stragista di cosa nostra negli anni 90 ma che poi è diventato un grande affarista ha amministrato un ingente patrimonio e ha continuato a comandare nel suo territorio e questo Matteo Messina Denaro a te guarda hai delineato perfettamente il personaggio ma anche il racconto che ho voluto fare in anni di raccolta di documenti e di sollecitazioni a testimoni persone che lo hanno che lo hanno incrociato altri che lo hanno conosciuto quello che è emerso oggi dopo l'arresto è un personaggio che sì l'avevamo raccontato ma forse fra virgolette lo avevamo sottovalutato perché quello che sta emergendo è ancor più reale rispetto a quello che poteva essere l'immaginazione giornalistica o le testimonianze che ci venivano raccontate di chi lo aveva 30 anni fa visto per l'ultima volta e quello che viene fuori soprattutto un personaggio che penso potrà sconvolgere il racconto la storia di Cosa Nostra ma non in senso negativo ma positivo perché è un boss che rimane un boss che come hai detto tu che ha comandato sul suo territorio ma spingendosi magari verso l'agrigentino ma è rimasto il capo della mafia di Trapani e quello ha voluto fare perché per un interesse personale per un esclusivo interesse egoistico personale perché si è arricchito e non non ha voluto né ha accolto le richieste e gli invitidi che qualcuno gli ha portato per diventare il capo di Cosa Nostra per prendere lo scettro dell'organizzazione lui è rimasto un personaggio che è riuscito a traghettare a switchare quello che è stato ed era uno stragista un sanguinario in un imprenditore in un personaggio che ha fatto affari ha capitalizzato l'esperienza di Riina con il quale è cresciuto facendo invece tanti tanti soldi questo quello che a lui interessava essere goduti ha trascorso una vita molto agiata fino al giorno dell'arresto e questo è personaggio che forse le indagini ci aiuteranno a raccontare meglio ma è ancora diciamo più incredibile rispetto a come ripeto ce lo hanno tramandato ecco ma infatti oggi che conosciamo il suo vero volto la sua voce che cosa dobbiamo pensare della sua cattura lo dico che molti si fanno guarda io penso proprio che sulla cattura non ci sono ombre non ci sono non ci sono misteri un'indagine fatta vecchio vecchio stile si può dire di polizia giudiziaria perché avendo saputo che soffriva era ammalato di tumore di questo tipo di tumore con quelle caratteristiche di quella personalità con quei 60 anni hanno hanno fatto un'indagine a tappeto sui centri di cura che c'erano in italia e questa cosa li ha portati poi dritti verso verso palermo mi chiederei di più e quindi lui era sicuro non posso nemmeno pensare e le indagini gli accertamenti che ci saranno nelle prossime settimane gli sviluppi ci saranno le prossime settimane questo io ritengo che ce lo ce lo diranno con chiarezza i documenti e le risultanze che lui non non si aspettava di essere arrestato anzi secondo secondo me invece bisogna chiedersi come mai lui ha scelto di andarsi a fare curare con tanta tranquillità alla maddalena a palermo in questo in questo centro e invece non è andato andato in un altro e perché diciamo è stato è stato mandato lì ma da chi poi è stato mandato lì e questo rientriamo poi in una grande rete diciamo di favoreggiatori di complicità che fin dal primo momento anche i magistrati hanno cercato di sottolineare con quella frase appunto sulla borghesia che in qualche modo lo ha aiutato in questi in questi anni di latitanza innanzitutto credo che sia una cosa che è stata già detta e scritta ma insomma uno che si aspetta di essere catturato che si vuole consegnare non si fa trovare con il via con il viagra a casa insomma non fosse altro per mantenere l'onore ecco ma si può dire che lui ha comprato la sua protezione con il suo denaro sì quello 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 sì non solo diciamo col denaro ma con purtroppo il prestigio criminale che lo ha contraddistinto perché riflettiamo anche su questo per circa due anni e mezzo lui è rimasto latitante a campo bello di mazzaro un piccolo centro a pochi chilometri da castelvetrano dove lui è nato e sappiamo dai risultati che sono emersi dal covo che lui ha vissuto e lì c'è stato per circa due anni e mezzo diciamo in questa campo bello e a campo bello abbiamo poi visto che ci sono persone che lo conoscevano che lo hanno conosciuto ora mi chiedo nessuno deve essere eroe nessuno deve essere che si deve esporre diciamo e diventare ecco una vittima ma gli investigatori cioè i carabinieri del posto cioè io penso che un informatore qualcuno lo avranno avuto perché tutti i carabinieri di tutte le stazioni migliaia di stazioni che ci sono in italia e gli informatori e i confidenti nel posto ce li hanno proprio perché controllano il territorio e quindi mi chiedo come mai in un arco di tempo così lungo che sono due anni e mezzo nessun informatore nessun confidente ha mai suggerito ai carabinieri che lì c'era uno con le sembianze di Messina Denaro che camminava tranquillamente con atteggiamento diciamo spavaldo tranquillo che poteva essere Messina Denaro è andato è andato a bussare alla porta dei carabinieri che comunque nemmeno i carabinieri sono accorti di quello che accadeva nel proprio territorio questo io lo ritengo un fatto molto grave ma soprattutto lo ritengo anche la la conferma del fatto che lui era nel proprio territorio così tranquillo e così protetto che anche quelli che magari lo potevano riconoscere perché lui non ha fatto nessuna plastica facciale il suo viso le sue lineamenti si sono soltanto invecchiati ma è rimasto tale quale come era 30 anni 30 anni fa quando frequentava anche quei posti e quindi io penso che chi lo ha incrociato lo ha riconosciuto penso che si sia girato dall'altra parte per il timore per la paura che hanno di lui perché sanno quanto è il peso criminale diciamo è la mafia che porta sulle spalle ma ancor di più penso che si sono girati dall'altra parte anche quelle persone che sanno quanto è mafioso ma sanno anche il welfare mafioso che lui ha creato sul territorio perché quello che lo ha protetto ancor di più rispetto anche alla borghesia diciamo che lo ha sorretto e favorito è anche il fatto che lui è riuscito con i soldi con il potere in questi 30 anni a sostituirsi allo stato dove lo stato non è arrivato in certi in certe pieghe in certe situazioni sociali del di quel territorio dove è mancato e manca il lavoro dove è mancato e manca la burocrazia anzi la burocrazia impedisce sviluppi o altri fino alla giustizia civile cioè ma con cui c'è un imprenditore gli imprenditori che cercano di recuperare crediti da debitori per centinaia centinaia di migliaia di euro se si rivolgono alla giustizia civile ci sono tribunali che allungano le udienze e di fatto non arrivi a una conclusione se prima magari non arrivi al fallimento e c'è sempre qualche amico che ti dice che c'è un proprio amico che ti può aiutare e quell'amico poi finisce nella rete di Messina Denaro e diventi schiavo e ancora di più c'è e quindi lui ti aiuta a recuperare quelle somme ma quando ti aiuta a recuperare quelle somme lui ci guadagna non solo perché ti chiede poi dei favori ma diventi di fatto ecco proprio schiavo della mafia e concludo dicendoti ancora di più anche sostituendosi a quello che è il welfare mafioso cioè imponendo il welfare mafioso sostituendosi all'assistenza dello stato anche per i laureati altre gente che avevano bisogno di lavorare e lui con i suoi prestanome mettendo su delle aziende come supermercati centinaia di posti di lavoro riuscito a dare posto di lavoro anche se non ben contrattualizzati ma sfruttando quelle persone accogliendo i favori cioè le richieste di favore che venivano fatti dai mafiosi anche in altri centri del trapanese e quando questo prestanome che gestiva i supermercati è stato arrestato e quella società quelle società sono passate un'amministrazione giudiziaria ecco è passato quindi un bene dalle mani della mafia in quelle dello stato ecco l'amministratore giudiziaria non so per bene per male non so se i conti non andavano bene ecco queste 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 supermercati sono stati chiusi e 400 dipendenti sono finiti in mezzo alla strada e quindi 400 dipendenti che prima ottenevano i soldi da qualcuno che era in mano alla mafia e quando finiscono in mezzo alla strada secondo te chi è che vanno ad applaudire allo stato o a matteo messina denaro applaudono messina denaro e quindi vince ancora lui e lo stato perde questo ti fa per lui lo fa sentire forte certo e lo fa sentire protetto senti un concetto che tu usi spesso è quello che la mafia si vince con la cultura di questo concetto hai fatto anche una battaglia allargata a roma a mafia capitale che poi ha avuto esiti giudiziari non molto incoraggianti all'italia tutta è così sì io penso proprio che leggendo e informando e cercando di portare ecco chiamiamo la cultura diciamo in tutte le fasce di età e si può allontanare diciamo la pianta malavitosa ecco comunque si può portare gli occhiali le lenti giuste alle persone per guardare meglio una realtà o certi o certi territori l'informazione è principale l'informazione è basilare diciamo in molti territori perché ti fa capire quello che è un dato di fatto attuale raccontare documentando e riscontrando i fatti attuali serve a far comprendere meglio magari da dove arrivano certe somme di denaro dei personaggi con chi camminano cosa fanno quando perché ma tu questo lo sai meglio di me diciamo noi ci troviamo a raccontare da cronisti giudiziari i processi e lì racconti la mafia la corruzione ma quei fatti quando li vai a raccontare in aula in un'aula di giustizia quei fatti sono già scaduti dieci anni cioè è un racconto di dieci anni prima e va bene che si faccia il problema è che la mafia è così veloce oggi ed è così avanzata che quando tu stai raccontando quei fatti giudiziari che finiscono quando finiscono in un'aula di tribunale sono già vecchi c'è la mafia che hai sul territorio già avanti già alta anche per i nuovi personaggi e la sfida è quella cercare di raccontare sull'attualità guardandosi attorno documentando le storie fatti per come è giusto fare senza diffamare e far vedere una situazione che è quella che ti circonda e questo intendo la cultura e quindi informare leggere conoscere documentare può salvarci o in qualche modo metterci al riparo dalle mafie quindi questo significa l'inio che innanzitutto il giornalismo l'inchiesta serve ancora nonostante i tempi che corriamo e poi per concludere ti vorrei chiedere questo totocuffaro torna pulito dopo sette anni il tribunale di sorveglianza gli restituisce i diritti civili attraverso grazie a un cavillo giudiziario studiato portato avanti dalla difesa quindi ormai di questi i capelli giudiziari sono pieni alcuni processi importanti ma non ha mai rivelato chi fossero le sue talpe romane allora io mi domando di pulizia e questo no ma soprattutto mi domando uno diciamo lui si può dire lui come silvio berlusconi entrambi sono stati riabilitati ecco diciamo entrambi sono stati condannati erano stati condannati con pena definitiva anche all'inibizione e all'interdizione dai pubblici uffici diciamo vita natural durante poi c'hai una riabilitazione viene riammesso quindi e quindi questo ti consentirebbe anche come a lui si è vantato di fare anche di scendere in campo nuovamente di essere candidato anzi a Cuffaro Cuffaro ho visto un'intervista in cui diceva addirittura che gli era stato proposto già di candidarsi e lui ha detto no no assolutamente non mi candido io vorrei invece conoscere i nomi delle persone che hanno avuto la sfacciataggine di chiedergli la candidatura o di farlo ritornare in politica perché bisognerebbe prendersi non più con Cuffaro ma con queste altre persone qui che lo prendono ancora come un esempio di un politico dall'altra parte c'è il fatto che che lui conferma ancora una volta che condannato per favoreggiamento che ricordiamo è stato quello che ha detto un altro indagato che nella casa del dottore gutta d'auro che poi finiamo sempre vicino a Matteo Messina Denaro perché ricordiamo che i gutta d'auro sono comunque legati lì e c'erano le micro spie in quel salotto si facevano tante cose dove si riunivano i professionisti ma anche i mafiosi e quindi ha scoperto quella micro spia e ha danneggiato un'indagine ecco una volta che è definitivamente condannato che è acclarato che le perizie hanno dimostrato che quello diceva Toto aveva ragione eccetera ecco dire o mantenere segreto su chi aveva gli aveva rivelato quella quella informazione è un po' omertà cioè quindi conferma conferma il fatto che è quello che i giudici non hanno sbagliato a condannarlo va bene Lirio con questo ci lasciamo attendendoti alla prossima e attendendo anche questo film non so se il principale interprete sarà Fadino questa volta molto dimagrito vedremo grazie Lirio